Arriva il tempo dei saldi estivi, partirà infatti il prossimo sabato la lunga maratona degli acquisti a prezzi scontati come sempre trattese per i commercianti ed occasioni imperdibili per i consumatori. In tasca un tesoretto per ogni famiglia secondo le stime di confesercenti di 300 euro da spendere. Anche se i saldi estivi, commenta il presidente Mario Landini, incidono meno sui bilanci delle attività commerciali rispetto a quelli invernali, rappresentano comunque un momento in cui si attende l'impennata delle vendite. La spesa pro capite per i saldi si aggira tra i 100 e i 110 euro, un po' meno dei 150 spesi per i saldi invernali, ma si prevede comunque una buona partenza, complice il desiderio di rinnovare il guardaroba estivo e le temperature che si sono alzate in quest'ultima settimana. Le occasioni di sconto, prosegue Landini, sono sempre più ricorrenti durante l'intero arco dell'anno e così nel tempo si sono modificate le abitudini del consumatore, sempre più proiettato a acquisti a prezzi scontati. Di sicuro ci saranno meno sfizi rispetto al solito, ma acquisti mirati, sottolinea Landini, la parte da padrone la farà all'abbigliamento e le calzature. Dalla città al Valdarno, alla Valtiberina, al Casentino ed infine alla Valdichiana, gli sconti partiranno subito dal 30 al 50%, solo nelle settimane successive ci saranno picchi fino al 70% per creare così maggior interesse nel tentativo di non far affievolire l'effetto saldo.